Cioè se vado top abbiamo Turbo losing lane Lo era pure con Renekton eh L'avrei chiesto pure con Renekton Ma queen chiunque Cioè queen top Chi è che ha un easy time? Nessuno Con fleet salari di Nimbus clock E beh il tuo ruolo rimane lo stesso Sì non cambia nulla Puoi clearare e non morire Il match up alla fine è ok Perché ti può abusare se muore una volta Anche se ci sono meno per colpa Dell'unitorno sempre scimmia mia minore 3 Perché c'è il free stun Quando ti fa il dash Ok Non dobbiamo che lo buttano in vedino qua Sempre qua Ariche Sto trovando Questo punto qua Gli oggetti giusti Tu Roberto qua Counter tu le paghi le tasse? Vado ragazzi Dimmi le... Tu le paghi le tasse? Ho capito un cazzo Le paghi le tasse? Eh sì bro Hai visto Oppenheimer? Sì Ma che? Perché? Qual è la correlazione Della queste due domande? Vuoi una bomba atomica Appena vedi quanto ti vuoi pagare Io pensavo di essere impari Poi ho dovuto pagare le tasse E ho scoperto che non avevo impari Un classico Ah sì 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 Avere già novembre experience Sì sì Ok non dobbiamo pullare di solito Qui che cosa vuoi? Start ovue contestiamo Prio per il due o... No Sto sempre Q Fai QE sempre Ok ok E tu mi giochi sempre basher Quindi ti metti Posizione tua è sempre questa Yeah Aiutami a pushare Penso lo perdiamo il due E posso arrivare a botta al tren Dopo questa wave Sarà se lo lasci busciare Io potrei fare un full clear E ti canco pure Ok Arrivo botti Ok Nautilus no ancora Abbiamo... Oh Ok prendiamo tempo per Dato Prendiamo tempo per Dato 5 secondi sono lì Non è male Non è male Sono qua Sono qua Sono qua Ritiliamo tutti Ritiliamo tutti Flash swiver Vai su Nautilus Vai 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 Ho la Q Ok 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 Gounders Ottimo Mia qui Però sta roba L'ho messo a fare Almeno due single One trick Quella che ho fatto io Mid Sì c'è il cervello Simile Io ce l'ho È piccolo Vedi che Secondo me dovrei Swappare mid E fare il romer Sono bravo a romare Non lo so Assolutamente ti scordi Come si gioca in due mesi Può essere Però magari salgo il triplo Sai Eh può essere Anche quello Potrei fare magia Che secondi lei Bello Sì Non ho visto Non ho visto Torni Niente Ciao Quino va back E' ancora qua Guardi E mi faccio il secondo punto Su lei E mi faccio su lei Arrivò in culo Posso Plonarla addosso Se la faccio C'era va ora E' qua Bastardo Non ci arrivo niente C'è lo special? Eh sì Beh a che mi provano al drago È ancora qua Ok qua Ho guardato Spare 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 Mi raccomando 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 Sì 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 Ok vado Vengo a mid Occhio che non ho spell shield Ho bloccato Ivern Scende 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 La Irelia Ha guardato Eh ha guardato qua Probabile Ho questo Scegliere 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 Bello Una flash Scegliere A posto Scende Queen Scende No è qua E ma un drago Eh potete farlo No Sì Posso farlo solo ma ci metto tre ore Sarà tienici push to mid No no non venire Sarà Vieni push to mid Missa missa Ora è qua Questo non deve passare Robby No non deve passare Chiudilo Sara Ma posso chiudere Scegliere Scegliere Giocate Il brief fight Scegliere Scegliere Il drago Issa Ivern Ivern Bello Bella Madonna Bello Luce Arriva la queen Counter Straffreddato Scegliere Queen Ok anche Irelia L'hauta C'è il drago Addosso No flash Ok Ok Ma è mezzo Ma che era sbagliata con il drago No più che altro avevamo pochi damage Però è ok Ok Eh posso provare a rubarlo Molto risky Questa situazione gioca sempre per le wave Quindi qui pushavi mid E lo give up e basta quel drago Sì sì Giaca per prendere vantaggio in qualcos'altro C'era anche Ivern al drago occhio Io adesso inizio a spostarmi per fare Posso fare una capa di namid e poi mi sposto per l'occhio C'era possiamo pillare Sì sì Lei è morta A meno che non va via Uh dimmi se ti serve che pushi No no Teniamo quella vai Ed Unito Non ho danno Non ho danno Nel cuore abbiamo vinto E io faccio Full clear bot top Per riprendermi vita E poi mi giro sull'occhio Non Una mano sarebbe carina Perché ci metto tanti Perché altra cosa Sale Ivern Sale Ivern Vieni 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 Arrivo arrivo Oh faccio il giro Sono a posto Sì 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 Arrivo Sulla prossima wave spingiamo Robby Irrealmente Ma c'hai campi up Qua sì Spingiamo ora Allora per forza Arrivo Altato Sì vabbè Qua C'è anche Irelia Ok vai via se riesci Verso qua Vieni a spingere Sono molto arrabbiati Queste tipi Mi sono Haters Bello Non ho troppo Peccato Pronto con lo special Io ho la ulti Vogliamo fargli l'occhio in faccia Nove Vado a pescare Kai'Sa Beccato Ovviamente Becca Becca Oh Mi sa Mi sa Mi sa Mi sa Mi sa Mi sa Guarda lei Finché tosta il god Comunque Nice per aver trastato il dive Io Dove essere sempre Cuccio Ok Ok Io sto trollando Perché dovevo A fare niente Scherzo Quell'Eralds Riesci a farlo in due minuti E' buono Sì Sì Ma devo ripenere mid Dove mi sento sì Ok Niente Scherzo I'm bad Eh Miss Non è qua Io Rusho L'occhio O che era L'ha manca Arrivo Dead Arrivo Ma mia Striver Non fa un cazzo Però sta tutto il game qua Stiamo l'agro Senza vita Becco Becco C'ho l'item Ok Ha ultato Ero lì Che facciamo Torre Se ti mette troppe difficoltà Possiamo sempre riswappare Ok Io te lo trovo Il basic Basic Ma lei La umiliamo Arda Scende Scende Irelia A botto Occhio Flash Ivern Alliel Ah Tipato Irelia Non l'ho vista Io ho un Eraldo pazzesco Da mettere qua Tirano Anzi Sì Tirano Fallback Io ho ancora la giungla Prima Ho il Usa Abbiamo Volvito Svi Per Occhio Sono No Pazzesco Ho No Non Sì, vado. Io arrivo. Bello. Sto a chiuderli da sopra. Arrivo. Non bene. Scende Irelia, scende Irelia. Sì, chilo questo. Eeeh, no, scende Irelia non c'è, scherzo, dobbiamo fare il Drago comunque. Che fate il Drago fast? L'hanno spattato. Ragazzi. Rondo mid. Iverno, Iverno. All the top? Rondo mid. Sarà non questa wave. Ora back e poi vai bot se devi back. Ok. F***ing crazy Akali. Dalla volontà di Ferro. Andiamo, mid rompi. E giochiamo... Come prima. Top side. Oddio che champion d'alesi, mannaggia il diavolo. Oh, te l'ha detto, mate. Mamma mia, costeruna, bro. Pure un leso può fare 900 movement speed. Ti ha lasciata piena di domande, guarda. Ok, ho, splash shield, splash shield. Arrivo a me, arrivo a me. Spinge. Potete fai dare, eh? Incaggio, incaggio. Fare Kaisa, fare Kaisa. Ho il panic, guarda, ci sono. E io muoio. E io muoio. Nice. Bravo Ricky. Nice. Good job, good job. What the f***? È matto. È pazzito. Pazzo, pazzo. Un attimo ho visto buio. Difendetelo, difendetelo. Il bravo Ricky ti ha fatto salire il testosterone e non ci è capito più niente. No, bravo, non glieli fare complimenti. Gli gani mi sono pisciato addosso, scusate. Non è più complicato. Eh, ce l'ha ancora, arrivi. Ah, è finito. Eh, ci abbiamo un altro minuto. Cerchiamo giungla top seed. Io devo beccare assolutamente su 2200. Sto facendo fra quella gameplay. Rappido, indolore, bra. Eh, match io iereglia, comunque vado bot. La posso, posso pushare e muovermi prima. Sì, andiamo a mettere la vision top seed. Vado. Sì. Eh, ok. Possiamo catchare questo, se trolla. Care nel cuore. Chiudilo da qua. Eh, mi devi controllare che usciamo. Ci sono i men, ci sono i men. Vado, 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 vado. Vai in, sarà. No flash, Kaisa. Possiamo tirare il dritto top, in realtà. Questo sta bene. Fai herald a tu, Zack. Noi tiriamo il dritto top. Nice. C'è le ward? Sì. Non lo lasciare. Mettila qua, magari. C'è qua. Ok, giriamo mid-herald. Qui? Non ho più ward adesso. Sì, sì. Vediamo l'ultima play, se non la posso regolare. Ci abbiamo venuto al drago, boh, posso regolare. Ok, stavo trollando. Special, bro, se non mi stanno. Sì. Beh, voglio beccare il suo fight brutto. Nooo. Allora è buono. Iralia. Ok. Io ho uno shutdown huge, devo stare attento. Prendo l'herald. Va bene, becchiamo. Ok. Ok. Io gioco both sides o l'herald per altri due? Eh, gioca... Gioca both sides. Ah, c'hai tu o l'herald? C'ho l'ho, c'ho l'ho. C'ho l'ho, c'ho l'ho. E chi non puoi beccare ora? Ok. Vieni con noi, Sara. Vieni con noi, mi viene. Sario? Non ce l'ho ultima. Vieni con noi. Andiamo a miss. Ho fatto il blow adesso. Sì. Quello te lo posso ultare. Io ho tirato giù l'herald intanto. Pushiamo bot. Siamo tutti ai bot. Uno può farsi... Ok. Puoi stare a torre? No, non è worth. Ok. Andiamo Drago. Uno che pusha a mid, Sara. Mi chiamo Baron dopo eh. C'è la veloce Drago. Dopo quella puoi andare a catcher la top, Sara. Kaisa è... Quattro mid, quattro mid. E se prendiamo questo... Vogliamo lo fai Tara, vogliamo lo fai Tara. Ok. Vieni... Torno, 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 torno. Ok, giochiamo Ivan. No flash. Vai bro. No. Ok. Ok. Facciamo tra le dritto bots. Eh, non abbiamo way, mi sa. No, c'è la prossima. Tipo, si può. Eh, tu push a mid, Sara. Sì, sì, sì. No, è la prima porta. Dopo, dopo. Tor, prima digli, aspetta. Ora inizia a spawn. Ok, becco. Chi è il corriere? La prendi, eh? Ti metto paura. Nel caso c'è black shield, no? Andiamo safe. Sì, sì. Ok, via, via, via. La torre. Ti avete recuperato? Volevo la torre. Tutto ok. Fammi mori, fammi mori. Ok. Ok, guarda. Ti piace la mia build, counter? Vabbè. Che cazzo di criminale di guerra. Tradizionale. Mi manca la vecchia Galeforce. Potevo fare Galeforce infinite. È bello, è bel meta, bro. Ovviamente è un bel meta. Shottavo tutti in tipo un secondo. Ma che c'è sto red? Contestiamo... E giuriamo Nashor, giuriamo Nashor. Prio mid più Nashor. Mattia. Oh, loro sono troppo contro. Sì. Ecco. Non abbiamo danni. Non fai data mid. No, no, no. C'è lì sto schifo, non so. Puoi prenderlo, eh? Go. Queen, 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 queen. Facciamo andare a Nashor. Nice. Eh, uno... Ok, difendi tu mid, Robert. Sì, sì. Anche giusto per fargli scacazzare un attimo. Dobbiamo ricallare, no. Andiamo a 3 team mid. Giacomo mid top. Zacc comunque secondo me d'abusa a re-counter. Sì, anche secondo me. Però... I noobs non ci sanno giocare contro, si fanno più a down engage. Ricky spinge, Ricky spinge. Però secondo me non ce lo lascio. Vediamo. E poi non si può giocare più il champion protetto, come ne parliamo. Ah, c'è il coso protetto pure qua. Eh... Io più, io top. Piano piano. Ok, look. Ci sono io con lo shield. Arriva uno da te, Daedo. Coveriamo Daedo. Coveriamo Daedo. Puoi fetare, eh? La ultima. Ok, pusciamo mid. Sulla wave che arriva. Eh... Andiamo anche nei bot. Sta vicino a me Robby? Sì. Ok, piano piano finiamo questa prima. Nadrus. Vai, verno dentro il blush. È partito. No, no. Fai hard trolling. Vabbè, GG. È buono. Allora, va bene Robby. Communication. Sara e Ricky dovete cercare di dire più info, ok? Se avete un flash, se avete uno spostamento, dovete chiamarle quelle robe. Roberto ha giocato molto bene, no? Anche comunicazione è stato tranquillo. Sì, sì. Roberto è stato bravo. Mi è piaciuto. Grazie, grazie. Ha preso il feedback ed è diventato il feedback. Molto buono, molto buono. Va bene ragazzi, io qui scappo che tra dieci minuti devo saltare in un'altra call. Va bene. Perfetto. Buon business. Noi torniamo poi domani. Sì. Ok. Bella. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Bella, raga. Vabbè, noi ci vediamo stasera per Valorants. Eh, sì. Sì, 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 sì. Se volevamo vedere un attimo io e te, Deido, poi domani pomeriggio le comp. Non ho mica a creare il cazzo, Counter. Bro, dai, l'ho messo da prima. Porco Ciuda. Va bene. Merda, oh. Va bene. Ci vediamo io e te un pochino le comp in mezzo da prima. Ok. 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 Ho fatto il bronzo 1. Now. Bravo, socio. Grazie. Va bene. E ci vediamo stasera con Valorant. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.